Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per fondo stradale scivoloso sulla rampa di entrata a Bargino in direzione Firenze. È prevista neve in A1 tra Sassomarconi e Rioveggio e sulla variante di Valico, nevischio in A1 tra Rioveggio e Aglio e sulla variante di Valico. Sulla statale 1 Aurelia per lavori tratto chiuso in direzione nord tra i chilometri 274 e 700 e 277 e 750 tra Donoratico e Cecina Centro. In provincia di Massacarrara sulla strada provinciale 42 del Cirone tratto chiuso per smottamento al passo del Cirone. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!